Buongiorno ragazzi, ore 10.08, episodio 34, sono Giacomo, oggi entrò a me in 5 anni, oggi è il 4 agosto 2022, vediamo se il calendario è confermato, no, è il 3, infatti è il 3 agosto, non vi sto parlando del futuro purtroppo, anzi per fortuna, se no che noio sarebbe se sapessimo già cosa ci attende. Allora in questo episodio faccio una piccola premessa, ovvero oggi sì che è uno di quei giorni ai quali non ho nessuna idea di cosa dire in un episodio e sebbene questa cosa nei giorni, no, nei mesi passati mi facesse entrare in uno stato un po' d'ansia, e mi dicevo, però cosa dico, cosa non dico, forse il podcast devo sospendere, non ho senso, mi abbattevo tipo in tempo zero, oggi sono qua e ho detto, beh facciamo questa premessa così facciamo vedere anche agli ascoltatori, facciamo sentire agli ascoltatori come si dipana un episodio che non ha nessun tipo di scaletta, non è neanche un'idea di base, di partenza, no, perché alla fine è divertente, è anche quello magari uno pensa, cavoli, Giacomo ha sempre l'idea chiare, bravo lui per fortuna, è facile anche fare il podcast così, no, tipo oggi non ho veramente nessuna idea di cosa dire, di cosa fare, su cosa aggiornarvi, però vediamo andando avanti cosa riusciamo a tirare fuori dal cilindro. Allora la prima cosa in realtà che mi viene in mente, perché poi alla fine come dice Gary V, documentare sempre la cosa più facile di tutti i tiri fuori i contenuti dal nulla, è che ieri ho iniziato a fare un nuovo corso e finalmente, devo dire perché era qualche mese che non ne facevo neanche uno, tra l'altro l'idea dietro a questo corso mi piace un sacco e secondo me potrà dare un sacco di soddisfazioni incredibili, però c'è un problema perché sono arrivato alla lezione 4 e io li carico su Vimeo perché Vimeo ha un player ottimo, più che altro i file stanno sul suo server e quindi vengono visti in maniera semplice, all'inizio caricavo tutti i file sul mio server e mettevo un player del cazzo, il problema era che non funzionava, cioè faceva 3 secondi, poi si fermava, caricava, c'era 3 secondi, è veramente ingestibile questa cosa qua. Pian piano, andando avanti col tempo, ho cambiato tutti i player in Vimeo, però c'è un problema perché Vimeo ha un limite di upload di 5 GB alla settimana, cioè vuol dire che posso caricare 5 GB di file e poi devo aspettare un'altra settimana per poterne caricare altri. Sul corso per fare libri su Amazon mi ha richiesto due settimane perché c'erano 10 GB di roba. Questo, sono al video 4 e ho già finito tutto lo spazio, quindi veramente è un disagio e infatti ieri mi stavo chiedendo se avesse senso utilizzare Vimeo perché non lo so, c'è una lezione 4, ma ovviamente 4 di almeno 10 e sono tutte lezioni lunghe perché sono tutte cose interessanti da dire, da approfondire. Quindi mi ero un po' chiesto come fare e alla fine stavo anche pensando di fare l'abbonamento annuale perché chiaramente quello mensile costa 10 euro al mese, ti dà 5 GB a settimana, quello che aveva un po' più in su ti dà 250 GB tipo al mese, una cosa del genere, una cosa che mi andrebbe benissimo, però il pagamento è annuale, cioè non sono stronzi, non è che dicono ti offriamo il piano mensile di più, quindi poi lo usi e lo disdici e lo riprendi, no no, devi pagarlo annualmente, quindi sarebbe 16 per 12 che è una cosa che anche no volentieri, quasi 200 euro spesi per Vimeo, probabilmente è un discorso stupido, un discorso che non tiene conto le leggi dell'abbondanza, però non me la sento, quindi per ora facciamo così, però il bello è che ho espanso il mio modo di ragionare, sono giunto a una conclusione, vabbè Giacomo guarda, finché non l'hai caricato tutto su Vimeo, mettili su YouTube, cioè non è che puoi stare qua a aspettare 6 mesi che tutti i video siano caricati su Vimeo e non lasciare il corso, rilasci il corso, uno se lo va a vedere su YouTube, vabbè il video non è visibile a tutti se hanno il link, ma va bene comunque se arrivi fin l'audi che ti sei scritto il corso, quindi non c'è nessun problema, quindi adesso sto caricando tutti i video su YouTube e spero veramente che il corso sia pronto al prima possibile, oggi è mercoledì, la vedo dura per venerdì, però sicuramente settimana prossima sarà disponibile, poi come succede ogni volta, che è una cosa che veramente mi piace un sacco, ieri ero là che dicevo, boh cosa faccio, lo inizio, non lo inizio, ha senso, non ha senso, so farlo, non so farlo, a un certo punto ho detto, boh sai cosa, attacco il microfono, inizio a registrare, ho fatto l'introduzione, ho fatto altri 4 capitoli, è una cosa fighissima perché, perché di sì, per quando poi parto, vedo che le cose mi escono e quindi mi diverto un sacco anche a farlo, ma poi soprattutto mi gasa, e questo è un consiglio che do anche a voi, per il fatto che tutte le persone che hanno visto il corso su come pubblicare un libro su Amazon, mi hanno detto che effettivamente è stato interessante e molto utile, io le cose che dico lì dentro, sinceramente per me sembravano abbastanza delle banalità, perché sono cose che faccio bene o male tutti i giorni, quindi le dicevo, ma si vede che la mia autostima era così bassa da dire, beh ma se le so io e le sapete tutte, in realtà non è assolutamente così, quindi fare corsi ti serve anche per questo, per iniziare ti esponi un po', vai dove non sai se sarai in grado o no e le persone poi ti danno i feedback, io fortunatamente ho voi che siete un super audience che mi dà sempre dei feedback interessanti e costruttivi, quindi grazie a questo riesco a crescere, però appunto mi fa capire che fare dei corsi del genere, anche se i contenuti non mi sembrano così elevati, solo perché io li so non vuol dire che gli altri non li sappiano, anzi magari li ritengono interessanti, di conseguenza mi spingono a fare molto di più, tra l'altro questo corso di tronologica interessantissimo, che vabbè ne parleremo quando lo rilascerò appunto, spero entro sette giorni dovrebbe uscire, però è bello che finché non parti tutto sembra insormontabile, tutto sembra del tipo, no non ce la farò mai, una cosa impossibile, poi quando in realtà ti approcci vedi che le cose sono molto più semplici del previsto, o meglio non sono semplici, ma non sono neanche così complessi come te li immaginavi, tra l'altro ieri mi sono messo a registrare alle 11, è una figata da quando sono a casa da solo, non ho assolutamente orari, mi sono messo a registrare alle 11, alle 4 ho detto, dai ho finito di registrare, adesso devo solo montare, vado a mangiare qualcosa e poi inizio a montare, poi mi sono chiesto, ma Giacomo hai fame? no, in realtà no, non ho fame, perché faccio anche questi auto check, per evitare di essere, di mantenere dei comportamenti scontati e stereotipati, perché non hai pranzato, devi pranzare, ma in realtà se ti chiedi se hai fame o no, cioè hai fame o preferisci montare i video, portarti avanti col lavoro, hai fame o preferisci andare a farti una passeggiata, staccare un po', perché magari il cibo non è la soluzione a tutto, così come molte cose non sono la soluzione a tutto, però finché non te lo chiedi, non è che tu poi vai a approfondire, per conto tu devi fermarti e ragionarci su, perché se no la mente va in pilota automatico, tu vai a mangiare, e poi dici, ok perfetto, riprendo a lavorare, invece ho detto, beh no, sai cosa, non ho fame, vado avanti così, quindi sono andato avanti a montare i video fino alle 7 di sera, e adesso ho questi 4 video pronti, li sto caricando pian piano, e oggi è un'altra giornata di corsi intensi, perché appunto quello è quello che sto facendo, però veramente bellissimo, una grandissima figata, mi sta entusiasmando un sacco, anche perché devo dire che il caricamento su Vimeo, è una di quelle cose che un po' mi bloccavano, dal fare rilasciare corsi continuamente, perché chiaramente hai questo cap a 5 giga, alla settimana non è che puoi pubblicare quanti vuoi, però abbandonando questa cosa qua, andando su YouTube, e caricando il su Vimeo man mano, diciamo che ho avuto un ottimo, un ottimo ragionamento, poi se avete qualche consiglio su qualche player video, con sempre a pagamento, per carità con qualche limite un po' maggiore, con abbonamento mensile, quindi posso usarlo, poi disdirlo, fatemi sapere, perché sono assolutamente interessato, poi un'altra cosa che voglio dirvi, è che ieri, in realtà nei mesi scorsi ero non in trattativa, ma in chiacchierata con dei ragazzi, per una soluzione di affiliazione, che mi hanno proposto, e ho detto a me dai facciamolo, figata, ho provato, ho riprovato, non riuscivo a fare conversioni, mi sembrava strano, alla fine ho detto beh, ci provo con mia moglie, che è sempre il loser test definitivo, almeno sono sicuro che vada tutto a buon fine, termino, e non c'era nessuna conversione, ho detto qua c'è qualcosa che non va, allora ho fatto presentare l'assistenza, e mi ha detto guarda, già confettivamente non te l'abbiamo riconosciuto, non so perché, andiamo a vedere o non andiamo a vedere, e ho fatto le prove, a me funziona, riprova, insomma non funziona, a me e mia moglie non funziona, a tutti gli altri a quanto pare sì, e il tipo mi ha lasciato con un batch, c'è un 3-5% di possibilità che non vada, tutto il resto del tempo viene convertito, e gli ho detto, e quindi cosa facciamo? Mi fa guarda, prova a fare altre conversioni, e se non funzionano, dimmi che proviamo a fare altre analisi, per ora, però è questa la figata del customer care, di mettere il cliente nella prima posizione, per ora ti accredito, un credito appunto di 126 euro, per le conversioni che hai fatto, e che non sono state riconosciute, perché adesso iniziamo a parlare, in termini un po' più intensi, cioè questo conto qua, ha una conversion di 60 euro a persona, che apre il conto, e di 6 euro, per chi solo si registra con la mail, quindi veramente cifre abbastanza incredibili, rispetto ai 60 euro al mese, che era una figata per gli AdSense, e questo è un'altra cosa, rispetto ai 113 euro, che vi avevo detto, 118 euro, che vi avevo detto, dell'altra cosa delle affiliazioni, quindi queste sono due affiliazioni, che stanno avanti in parallelo, siamo a 126 più 113, e veramente 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 bello, perché le cose stanno iniziando a crescere, in maniera importante, quindi queste sono le cose, che volevo dirvi nell'episodio di oggi, ho messo in pausa, il segmento precedente ragazzi, per andare a vedere una cosa, che mi è arrivata su telegram, perché sul gruppo di diventerò milionario, che trovate su diventerò milionario.it slash telegram, e venite riportati al gruppo telegram, Piero ha appena scritto una piccola perla, per mangiare quasi gratis, quindi ha suggerito un'app, con dei punti, un codice promozionale, per mangiare quasi gratis, quindi se volete andare a vedervelo, venite sul gruppo telegram, trovate tutto quello che Piero ci ha condiviso, altrimenti no, comunque la cosa brutta ragazzi, è che questo segmento l'ho già registrato, per la prima volta, dopo penso anni, ancora se l'è perso, in realtà anche un po' per colpa mia, se l'è perso, però questa cosa, sono contento che sia successa, sia perché il segmento, bene o male me lo ricordavo, non era molto lungo, ma anche perché mi torna utile, per andare a integrare le informazioni nel corso, come fare un podcast, che uscirà prossimamente, ormai sono lanciato, quindi questa cosa uscirà prossimamente, spero prima della fine dell'estate, voi direte, eh sì l'estate, perché devo un po' dedicarmi a tante cose, come vi ho già detto, sono un po' una trottola, ovvero parto, spiego tantissimo sul blog, poi quando inizio a avere risultati sul blog, passo all'altro, per il modo da continuare a girare, a mettere sempre delle energie su delle cose, poi le lascio andare un po' per conto loro, mentre crescono, torno ad un'altra parte, così non finisco mai l'entusiasmo, l'energia, la voglia di fare, e le cose continuano a crescere tutte assieme, questa è un po' la mia strategia al momento, comunque tornando a noi, i corsi spero che usciranno sempre più di frequente, ma non vedo perché, perché no, visto che adesso ho trovato questa cosa su YouTube, ragazzi, se questo episodio è stato interessante, fatemelo sapere, anche perché sono partito senza nessun tipo di, di idea, quindi qualcosa di interessante è venuto fuori, fatemelo sempre sul gruppo Telegram, se no ci vediamo domani, solitamente, solo diventerò milionario, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, ciao ciao!